siete uno spettacolo ragazzi e prima di cominciare come ogni sera voglio ricordarvi le regole perché sta per entrare colui che non vi farà notare che dopo le 23 i vostri piedi sono due iceberg raggelanti davanti a voi c'è un po' di illuminati anche questa sera il nostro singolo avrà tre round a sua disposizione per farsi conoscere e apprezzare da almeno una di voi se questo non dovesse avvenire saremo di fronte a un blackout e sapete benissimo che blackout uguale nessun appuntamento una luce accesa anche soltanto una uguale appuntamento uguale uscita la tech me house la nostra fabbrica dei colpi di fulgine come se gli assume questo semplice se non vi piace l'ascensore occupati il ragazzo libero single fatti vedere signor presentati sono francesco e vengono da luce di cannesco no è l'onore